La partita, giocata per due tempi a buon livello, gli ultimi due tempi qualche indecisione ci ha fatto innervosire e come al solito quando noi ci innervosiamo non abbiamo mai la reazione positiva, non abbiamo mai una reazione che dovrebbe avere una squadra o un giocatore. Detto questo, mercoledì ci aspetta un impegno per noi proibitivo e se andiamo giocando solamente due quarti, quasi tre quarti della partita, pensiamo che ci facciano molto male.